Mi è stato chiesto come si possa posizionare e centrare un'incisione o un disegno su un pezzo che abbiamo da lavorare. La prima cosa da fare è vedere le dimensioni del pezzo che dobbiamo lavorare e andare a fare un rettangolo corrispondente al pezzo che dobbiamo lavorare. Supponiamo che il nostro sia un rettangolo con dimensioni 150x50 e voglio posizionare nel centro di questo pezzo che voglio lavorare, ci posiziono un'incisione o una scritta o qualcosa del genere. Facciamo una scritta che è abbastanza più semplice, prendo una scritta e ci scrivo ciao. Allora, cosa devo fare? Innanzitutto devo selezionare per primo la scritta con la freccia, la scritta che voglio mettere al centro del pezzo qua. Quindi seleziono prima questo, poi con CTRL vado a selezionare dove deve andare a centrarsi ed infine cliccando qua, vedete che si posiziona nell'esatto centro della figura fatta. Poi, logicamente, devo andare a posizionare il tutto a secondo di cui voglio incidere, con il frame lo facciamo e se non vogliamo vedere questo secondo, questo ripiano che non è altro la riproduzione del pezzo che io devo incidere, basta che con T1 o T2 lo evidenzio logicamente e poi vado a cliccare T1 a T2 che non farà altro che farmelo vedere ma non mi andrà a fare nessun tipo di lavorazione.